Credo che il sistema delle scuole dili possa senz'altro essere al centro del progetto formativo delle imprese e costruzioni, credo anche che però sia necessario pensare a una riforma importante, direi anche profonda, che metta sostanzialmente al centro della formazione colui che deve essere formato. Io questo credo che sia la richiesta, l'esigenza più forte che viene dal sistema delle imprese. Pensiamo per esempio alle maestranze. Storicamente le maestranze si sono formate soprattutto attraverso l'insegnamento che i vecchi assistenti di cantiere facevano ai giovani che entravano in cantiere. Ora questo in parte accadrà sempre perché è poi la palestra importante della formazione quella ma certamente oggi noi abbiamo un sistema, per esempio penso alla sicurezza, che ha bisogno di essere inquadrato e spiegato ai giovani che poi entrano nei cantieri questo si può fare e si deve fare nelle scuole dili. Penso anche che probabilmente sarebbe utile immaginare che la scuola possa arrivare e entrare all'occorrenza in cantiere magari con flessibilità e con la capacità quindi di intervenire quasi mi avrebbe dire a domanda insomma quando c'è o ci dovesse essere un deficit di formazione. Diverso è il problema invece della formazione di livello più alto che anche essa si deve svolgere con professionalità e competenze insomma che devono essere all'altezza della situazione. Perché noi abbiamo bisogno di tecnici che poi sappiano condurre i cantieri ma c'è qualcuno che bisogna che riesca a colmare il gap che esiste sempre fra una formazione di tipo scolastico e poi l'esperienza di cantiere.